Ascidenti, questi sono dosi meno nienti gato. Vanno, Spigone, stendi a letto ed aggiungimi. Se mi dico, posso voltare nella scena? Ora monto sulla gru e sistemo il comino sul tetto. Guarda, guarda, un aquilone! Oh no, il mio aquilone è nuovo! Non ti preoccupare, bambino, ti penso io! Ecco fatto! Pesa il volo! Grazie signora, lei è veramente gentile! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!